Musica Vice sindaco Lebero, oggi presentiamo il piano del porto di Napoli, una grande occasione per il piano strategico della città metropolitana, saranno presenti autorità, sindaci, finalmente si discute del territorio. Sì, abbiamo invitato tutti gli esponenti della città metropolitana, dal Consiglio ai sindaci dell'intera area metropolitana, tutto ciò perché è decollata la legge sul rio e sui porti, sappiamo bene che oggi non è solo l'autorità portuale di Napoli ma è l'autorità del Martirreno che va da Napoli a Salerno passando per un altro comune fondamentale per l'autorità portuale che è Castellammare. E quindi noi abbiamo all'interno per legge, all'interno dell'autorità portuale, un nostro componente che è il dottore Masucci. Dal momento in cui è decollato l'autorità noi abbiamo partecipato a una serie di riunioni ed è nata l'esigenza che il piano operativo che sta costruendo Pietro Spirito, nuovo presidente, venisse presentato qui in città metropolitana. Qui non solo per conoscere, non solo per contribuire proprio come pianificazione urbanistica ma anche per prepararci alla grande sfida del piano strategico che comprenderà una serie di forum e come non partire proprio dal waterfront della nostra area metropolitana. Quindi da Napoli all'area Fregrea all'intera area costiera fino ad arrivare a Mastaro-Brenze. La risorsa mare è oltre proprio al porto che è la più grande industria della campagna. La risorsa mare credo che sia un elemento essenziale per la vita della città di Napoli ma per la vita di tutti i comuni che stanno sul mare. E in più non dobbiamo dimenticarci che tanti comuni hanno la logistica nell'entroterra, ovvero l'autorità portuale ricordiamoci che è collegata all'interporto, al CIS di Nola. La linea dell'amministrazione con in capo Luigi Maggis è quella di ripartire proprio dal trasporto marittimo, cioè incrementare quello che fu il progetto della metropolitana del mare, cioè tentare di collegare i nostri comuni anche da mare. E' importante che in maniera sinergica la città metropolitana e in particolare l'area di pianificazione territoriale copianifichi insieme all'autorità portuale, insieme a Pietro Spirito e insieme al suo comitato di gestione. Gli enti non si devono dividere e quindi bisogna concertare, condividere e andare avanti tutti insieme. Sicuramente è importante perché intanto il porto abbraccia anche territori della città metropolitana, in particolare Castellamare e quel ritorale e quindi è corretto anche in termini di pianificazione che si approfondisca il processo di collaborazione tra la città metropolitana e il percorso di cambiamento dell'autorità portuale di sistema, in particolare su Napoli e su Castellamare. Poi una questione di cui abbiamo discusso in una riunione precedente è quella che dovremmo estendere questa collaborazione attraverso la regione e anche la città di Salerno perché noi saremo chiamati come autorità portuale a fare un piano di autorità portuale di sistema e quindi a vedere assieme i territori di Napoli come città metropolitana di Castellamare e di Salerno. Quindi dobbiamo ragionare con il coordinamento della regione su territori diversi, quindi la città metropolitana di Napoli ha certamente sulla pianificazione un ruolo molto importante da giocare.